Musica Io credo che i vetti in questo momento siano pericolosi. Il Partito Democratico sembra aver posto un veto sulla figura di Luigi Di Maio come vicepremier. Luigi Di Maio è il nostro capo politico. Grazie. Cominciamo a lavorare. Ma fare il voto su Rousseau, voi l'avete definito un grave sgabbo. Ognuno ha le sue procedure, noi seguiamo le nostre, cominciamo a lavorare e ci auguriamo sia una bella giornata. Il Beto Sottimaio vicepremier può far saltare la trattativa? Non credo che ci siano vetti. Buongiorno, 9.42 si ricomincia a discutere forse un po' meno di nomi e un po' più di temi, almeno nelle dichiarazioni di intenti, poi vedremo se sarà davvero così. Comunque oggi è l'ultimo giorno, oggi si arriva di fronte al capo dello Stato, già ieri avete visto sono iniziate le consultazioni, questa mattina ricominciano alle 10, probabilmente ci collegheremo con il Quirinale, quindi vi mostreremo se riusciremo, diciamo così, con i nostri tempi a incrociare quelle delle delegazioni che escono le loro dichiarazioni. E intanto nell'attesa cerchiamo di capire che cosa sta succedendo all'interno dei vari partiti e movimenti, perché la nascita di questo governo, sempre che ci si arrivi, sta provocando un dischietto terremoto sia all'interno del Movimento 5 Stelle che nella Lega, che vedremo anche nel Partito Democratico, che però per paradosso era quello che era nato con gli avvisi di scissione, per qualcuno di sventura, annunci di sventura, per altri no, in questo momento pare invece essersi ricompattato. Ne parleremo con gli ospiti in studio, che saluto con gioia, a partire da Maurizio Caprara, collega del Corriere della Sera, buongiorno e benvenuto, e Massimiliano Lenzi, buongiorno, collaboratore del tempo, nonché autore anche di un libro che ci ha aiutato, no, anche un po' in questa... Il caso Mattei, il caso Mattei, cioè i due, i Mattei, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Collegati invece con noi, Daravello, il sociologo, il professor Domenico De Masi, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci sente bene, io sento un audio un po' disturbato, ma insomma spero che riusciremo a sistemare. E invece a Milano c'è Vincenzo Sofo, buongiorno Sofo, animatore di questo blog che si chiama Il Talebano, blog sovranista lo possiamo dire, blog perché si autodefinisce così, ha tentato l'avventura delle elezioni europee con la Lega e diciamo è sicuramente... Congelato, congelato in attesa della Brexit. Va bene, e vedremo allora che cosa accadrà esatto se si spostano equilibri anche all'interno del Parlamento europeo. Avete sentito le dichiarazioni dei nostri rappresentanti, no? Quindi si lavora, in qualche modo si lavora, si va avanti, c'è una scadenza molto precisa. Però chi sfoglia i quotidiani questa mattina, oltre ai vari totonomi eccetera eccetera, trova anche appunto articoli che ci raccontano del mal di pancia, del malessere all'interno dei vari movimenti. Vi faccio per esempio vedere pagina 6 del Corriere della Sera, Maurizio, con... vediamo se la regia riesce a mandarcelo in onda. Il titolo dell'articolo è Di Maio, consulteremo la base, gli eletti, eccolo qua, attaccano lui e Dibba. E insieme a questo vi faccio vedere anche un post su Facebook. Un post su Facebook che è stato fatto ieri da un esponente abbastanza importante del Movimento 5 Stelle, Barillari, che diceva io non posso morire Piddino. Una volta si diceva non voglio morire democristiano, adesso non posso. Eccolo qua, lo vedete, Davide Barillari che dice sono nato con i 5 Stelle, non posso morire Piddino, mi rifiuto. Insomma, qual è la vostra... Ci era una facile battuta, teme di morire presto perché chissà quanto durerà. Ecco, ma questo è già interessante. No, ma a proposito di quello che dicevi, il Corriere stanotte ha fatto in tempo a fare un titolo a tutta pagina su quello che secondo me in queste ore, se non viene risolto e affrontato, è il tema principale. Ed è questo della consultazione sulla piattaforma Rousseau annunciata al Movimento 5 Stelle. Questo è una cosa che il Capo dello Stato non può tenere in considerazione. Gli articoli della Costituzione che vanno dal 92 al 94 non portano a nessun genere di aspettativa di pronunce di quel tipo. L'interlocutore del Presidente della Repubblica sono i gruppi parlamentari perché è dal Parlamento che il Governo deve avere la fiducia. non c'è nessuna normativa che è accettata, che stabilisca che la piattaforma Rousseau è un organo dirigente riconosciuto o riconoscibile ma anche se fosse l'interlocutore del Presidente della Repubblica non è la direzione o la segreteria di un partito è la delegazione che va in rappresentanza non a caso del verce del partito e dei gruppi parlamentari. Quindi questa è una cosa che secondo me dimostra e conferma la scarsa voglia in particolare di Luigi Di Maio di stringere l'accordo col PD. Poi non so come si chiuda ma certamente non è un elemento... Quindi scarsa voglia perché qualcuno invece l'ha interpretata più come diciamo una slabbratura, una sgrammaticatura che però è più figlia di diciamo ancora non conoscenza adeguata dei meccanismi o comunque no del volere dire però io ho un movimento a cui devo rendere conto. Dopo un anno e mezzo che è ministro se c'è una non conoscenza dei meccanismi... Cinque anni di vicepresidente della Chiesa. Se c'è una non conoscenza dei meccanismi... No, invece la lettura che ne fa caprare è qui. La settimana scorsa il Presidente della Repubblica ha detto martedì, martedì puntualmente senza nessun ritardo perché non è vero che c'è stato un ritardo, sono cominciate le consultazioni che prevedevano secondo la scansione dei tempi che mercoledì fossero i gruppi principali ma non è stata inserita la possibilità che poi si ascoltasse un'altra... Ripeto, non è i rappresentanti del popolo, a rappresentare il popolo secondo la Costituzione italiana sono i parlamentari e non c'è un terzo soggetto che si può inserire in un altro momento di cui il Capo dello Stato deve tener conto e questo non è un aiuto alla risoluzione della crisi nella direzione in cui si sta lavorando. Poi non do un giudizio di valore... No, certo, non è un aiuto alla risoluzione della crisi ma il Capo politico deve tenere conto anche del movimento che lo ha... Qui c'è il punto, cioè il punto è la grande debolezza di Di Maio perché Di Maio è quello che dal leader ha fatto l'accordo con la Lega e ci ha scommesso e Salvini ha staccato la spina al governo. Ha dimezzato i voti del Movimento 5 Stelle in un anno e mezzo, dalle politiche alle europee. Ha fatto fino a pochi giorni fa una feroce campagna anti-PD. Come può essere lui il garante di un accordo con il PD e il vicepremier di un governo dove il premier sarà Conte? Cioè il vero problema, quando si dice la priorità ai programmi, no. Quando c'è stata tanta avversione come c'è stata tra PD e 5 Stelle, la priorità va sulla scelta delle persone perché la tollerabilità delle persone dall'una e dall'altra parte diventa garanzia che l'accordo proceda. A questo ci arriviamo subito, adesso dobbiamo andare in pubblicità, dopodiché voglio andare dal nostro De Masi perché vorrei capire se Di Maio poteva fare a meno di consultare Rousseau e questo però che cosa poi eventualmente gli sarebbe costato, ovviamente però dopo la pubblicità. Sono le 9.55, riprendiamo la nostra diretta stando sempre con un occhio attento al Quirinale a quello che sta succedendo nel corso delle consultazioni, però in questo momento ci stavamo interrogando su questa necessità che ha esplicitato il Movimento 5 Stelle di sentire i propri iscritti alla piattaforma russo per chiedere il loro conto della formazione di questo governo. L'opinione di uno dei nostri ospiti, di Maurizio Caprara, è che in qualche modo chiedere la conferma a Russo possa significare non volere chiudere questo accordo, o comunque no, volessi tenere una porta aperta. Possiamo metterla così? Beh, ci sono altri che questa porta tentano di tenerla aperta, basta vedere la nota che è stata fatta ieri dal Viminale sulla questione dell'ultima imbarcazione di migranti nella quale il Viminale fa sapere che è contento per la ritrovata unità del governo, ora in teoria questo governo... Il Viminale Salvini. Esatto, esattamente, cioè colui che ha aperto la crisi. È considerato che il governo è in carica per gli affari correnti, ma che se le trattative fossero a buon punto è un governo in agonia, dire che ha fatto una ritrovata unità forse uno non spende nemmeno l'inchiostro per dirlo, a meno che non voglia far sapere... Guardate, io sono qui, se volete si può ritornare a lavorare insieme. Per dirlo con il linguaggio social... Non dico che avviene, però così questa è la partita in corso, diciamo... Io non do un giudizio poi su se sia giusto o sbagliato, però sono così le cose. Questa è l'evidenza. Domenico De Masi, poteva Di Maio esimersi dal chiedere, Di Maio, insomma comunque lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle, esimersi dal chiedere ai propri iscritti il parere su Rousseau? No, sì, sì, sì. Dico subito... No, non poteva e cerco di spiegare perché. Per noi sociologi il Movimento 5 Stelle è un prezioso caso di studio. Perché? Perché è un movimento che sta per diventare partito. Negli anni 30 ci fu un dibattito enorme, guidato da un sociologo italiano, Michels, che insegnava a Perugia, su cosa è un movimento e cosa è un partito. Tutti i partiti cominciano come un movimento, ma non tutti i movimenti riescono a trasformarsi in partito. E il Movimento 5 Stelle è in questa fase delicatissima, durante la quale è stata lasciata senza un leader, perché Grillo non se ne interessa più, perché Casaleggio padre non c'è più, Casaleggio figlio non è Casaleggio padre. E Di Maio ha fatto quattro cose invece di fare solo quello, cioè il capo di un movimento che ha il compito di trasformare il movimento in partito. Passaggio delicatissimo che richiederebbe 24 ore su 24, anziché il tempo residuo. E io consiglierei a Di Maio, per questo governo, di fare il capo di partito, non di prendersi un ulteriore ministero che gli impedirebbe di fare appunto quest'altra cosa. Quindi fare un po' come fa Zingaretti, tenersi fuori anche lui, no? Fare un po' come fa Zingaretti. Sì, sì, ma come fa Zingaretti che si occupa di un partito che è in una fase delicatissima anch'esso e che ha bisogno di un leader 24 ore su 24. La stessa cosa dovrebbe fare Di Maio. Comunque per ora il Movimento 5 Stelle non è più un movimento ma non è ancora un partito. Quindi non può non rispettare alcune regole che il movimento si era dato, perché altrimenti direbbe ai suoi soci, ai suoi associati, ai suoi fans direbbe abbiamo fallito su tutto. Quindi almeno sulla regola di consultare la base che era fondante per il Movimento 5 Stelle io credo almeno a questa regola non può fare a meno. E allora, stante che non ne può fare a meno, poi ovviamente tutto quello che può significare da un punto di vista al momento delle consultazioni evidentemente perché dovesse mai essere bocciato dalla piattaforma russa o l'accordo che succede? Siamo alle comiche. Cioè vai da Mattarella e gli dici... No, siamo alle comiche anche perché il ragionamento di De Masi è interessante, però potevano farlo prima questa consultazione. Il Capo dello Stato ha dettato dei tempi, ha richiesto velocità. Loro potevano indicativamente, siete favorevoli a che apriamo un tavolo di discussione con il PD? Punto interrogativo. Anche perché questa base è molto ristretta rispetto ai voti che prende 5 Stelle. In quanti votano? 60-70 mila sulla piattaforma russa? Fossero anche 100 mila rispetto a milioni di elettori. Che rappresentanza è? Cioè oggettivamente quest'idea della democrazia diretta è già fallita, no? Cioè l'allargamento della partecipazione, se non si allarga la partecipazione e diventa un click ristretto a pochi, fallisce. Non funziona. E i tempi potevano essere anticipati. Di Celenzi, Sofo, però se comunque invece la richiesta della piattaforma russa significa anche forse non voglio chiudere questo accordo, forse c'è ancora appunto questa porta che viene tirata da una parte e dall'altra, è in questa porta che si incunea la Lega. Guardate, allora la questione della piattaforma russa, innanzitutto piaccia o non piaccia, è oggi l'unico elemento di coerenza che eventualmente ci sarebbe nel Movimento 5 Stelle perché è uno strumento che è sempre stato adottato. Io capisco però che questa storia del voto sulla piattaforma russo faccia paura a tantissimi come abbiamo ascoltato negli interventi precedenti perché... No, ma non fa paura. No, ma non fa paura. È un'insurrezione, fermo, fermo, fermo. È un'insurrezione, non nessuna paura. Chi sta sponsorizzando, scusate. Non ne frega nulla. Un'insurrezione, no, nessuna paura. Un religioso silenzio quando parlano gli altri e mi aspetto che anche gli altri diciamo... Sì, però se attribuisci delle cose agli altri che non sono statunette... Ascoltiamo in coraggioso silenzio. Va bene, va bene. Religioso, meglio che coraggioso. Coraggioso, coraggioso. Coraggioso. Rispettoso, va bene, rispettoso, va bene per tutti. Ok, come mediatrice sono perfetta. Allora, stavo dicendo, allora questo accordo PD 5 Stelle è evidente a tutti che sia molto sponsorizzato per esempio dai media, tra virgolette, diciamo, dell'establishment, e da tutto l'apparato dell'establishment italiano ed europeo. Ora c'è un problema che c'è una fortissima discrasia tra quello che vogliono i palazzi, cioè questo accordo 5 Stelle PD, e quello che invece vuole il popolo italiano, che è un ritorno alle urne, il che non significa che questo accordo non debba avvenire, perché magari le urne sanciscono un'alleanza, la volontà di un'alleanza PD 5 Stelle. Ora, questa differenza tra quello che è il sentimento popolare, basta andare per strada a rendersene conto, e quelle che invece sono le manovre dei palazzi, mette in fortissima difficoltà il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle è un movimento che nasce proprio per dare retta, questo è quello che hanno sempre detto, alla volontà popolare, piuttosto che alle manovre di palazzo, la famosa democrazia diretta, che hanno cercato di mettere in campo poi con la piattaforma Rousseau. Quindi è evidente che loro sanno che se si va a interpellare il popolo per strada, probabilmente questo accordo viene bocciato. Se si fa invece questo accordo per via delle pressioni che ci sono, che vengono dai vari palazzi, questa cosa però invece li mette in forte difficoltà perché li snatura fondamentalmente. Anche perché, io vi ricordo una cosa, che questo famoso, diciamo, contratto di governo, Lega 5 Stelle, nasce da una comunanza dei due partiti che di fatto era la lotta a quello che era rappresentato dal Partito Democratico e da Renzi. Cioè il minimo comun denominatore di quell'alleanza, di questa sperimentazione di governo, era esattamente l'opposizione ai governi del PD e alla politica portata avanti del PD. Quindi adesso il 5 Stelle, mettendosi, cambiando di alleato in tradizione molto italica, quello di passare dal giorno alla notte da una parte all'altra della barricata, tradisce proprio lo spirito fondamentale del Movimento 5 Stelle e tradisce tutto ciò che il 5 Stelle ha fatto fino a ieri. E questo è una cosa che effettivamente crea fortissimo imbarazzo in primis in Di Maio. Allora, sì, un secondo solo però, perché quando gli ospiti che vanno nei vari talk, che dicono gli italiani vogliono, gli italiani fanno, io non so, insomma, gli italiani sono tanti. Allora, mi sembra corretto anche far presente che oggi, sempre sul Corriere della Sera, non è un caso, è un ottimo quotidiano, c'è un sondaggio che invece sottolinea come prevarrebbe chi chiede un governo, poi che tipo di governo, magari anche di nuovo Lega e Movimento 5 Stelle, però non è poi così vero che tutti vogliono andare a votare. Lo dico solo per amore di, diciamo, equilibrio e correttezza. Prego. Volevo dire a Sofo che la difficoltà dei 5 Stelle nasce da Salvini che ha staccato la spina. Cioè, loro hanno scommesso su un governo, lo stesso Salvini infatti, non avendo poi previsto un piano B allo staccare la spina al governo, è tornato indietro. Lo diceva prima Caprara, citando il comunicato del Viminale, e dicendo abbiamo sempre le porte aperte, ma la difficoltà dei 5 Stelle, che è un partito che in un anno di governo ha dimezzato i voti politiche europee, dal 32,7 al 17 errotti, stando al governo con Salvini, incassando alcune cose come il reddito cittadinanza, concedendone altre, l'8 agosto si sono visti staccare la spina nel momento di massima difficoltà, perché il partito era debole e aveva anche problemi di voti. Quindi il problema non è l'alleanza col PD, l'alleanza col PD è il piano B che paradossalmente hanno i 5 Stelle, ma non ha la Lega, ed è un paradosso di questa crisi aperta da Salvini. In realtà però questo è inesatto, perché? Perché è vero che la crisi formalmente l'ha aperta Salvini, ma Salvini non ha fatto altro che prendere atto di una crisi che ha innescato il 5 Stelle in due momenti. Il primo è la votazione alla presidenza della Commissione europea, dove il 5 Stelle si è di fatto alleato con il PD per eleggere la von der Leyen. E quindi di fatto lì ha separato la propria strada rispetto alla Lega. E il secondo momento fondamentale è stata la votazione contro la TAV, dove il 5 Stelle non soltanto ha preso le distanze dalla Lega, ma ha preso le distanze dallo stesso Conte. Cioè chi ha sfiduciato Conte in primis è stato il Movimento 5 Stelle, quando di fronte a un parere sulla TAV, quando Conte si è dichiarato favorevole, la Lega si è dichiarata favorevole, il Movimento 5 Stelle ha detto assolutamente no. E la cosa paradossale è che il Movimento 5 Stelle, dopo aver aperto nella sostanza la crisi su questo tema della TAV, propone di nuovo Conte, che il 5 Stelle ha sfiduciato, dichiarandosi contro la TAV a differenza appunto del Primo Ministro, e proponendo un governo Conte, di nuovo, con il PD che è a favore della TAV. E quindi per andare sui contenuti e nei fatti, come e quanto può durare un governo che il 5 Stelle va a fare con una forza politica che già sa divergere in alcuni temi che per loro sono considerati fondamentali, con un Premier che già sa divergere in alcuni temi che per loro sono considerati fondamentali, a partire appunto dalla TAV. Caprara, telegrafico perché... Non ci stiamo capendo, le osservazioni che ho facevano sulla consultazione dei 5 Stelle non è la devono fare o non la devono fare, io non devo dettare una linea politica, ma è capire il senso delle mosse che vengono fatte. Il senso delle mosse che vengono compiute in questo caso non va nella direzione di consolidare il tentativo di costruire il governo che si sta costruendo, che poi magari alla fine si fa lo stesso, ma certo non va in quella direzione allo Stato attuale e non è previsto dalle procedure consuete, scritte e non scritte, per la formazione dei governi. Questo è un dato di fatto, non è che paure o... manca neanche per idea. Capisco la puntualizzazione. Allora, l'interpretazione che dà Sofo della crisi, come sapete, è l'opposto di quella che viene data dal Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle ha comunque un problema, al di là del voto o meno, sulla piattaforma russo. Oggi uno dei più contrari, diciamo, a questo nuovo governo con il Partito Democratico, ovvero il senatore Paragone, che peraltro viene dalla Lega, quindi dall'area di Sofo, dice io potrei votare la fiducia a questo governo, cioè non voterei la fiducia a questo governo, a meno che non mettano all'economia gente come Stefano Fassina o Emiliano Brancaccio. Emiliano Brancaccio è un notissimo economista, spesso è stato anche ospite proprio degli studi di Coffee Break, Stefano Fassina, lo ricorderete tutti, come responsabile per un certo periodo anche proprio del settore economico, all'epoca del Partito Democratico, poi la scissione, eccetera, eccetera, insomma, questa è però una delle... ma la mia domanda è, e la rivolgo di nuovo a De Masi, che ci raccontava di questo movimento che sta cambiando pelle, cambia pelle o rischia anche una scissione? Perché insieme a Paragone, per esempio, è trapelato nei giorni scorsi che c'erano almeno una dozzina di, fra senatori e deputati, che potevano non votare questo governo. Prodromo di una scissione? Ma a me pare che tutti i partiti in gioco in questo momento sono in fibrillazione tale da poter anche preludere a scissioni. Perché non ci saranno scissioni? E perché secondo me è quasi inutile parlare, diciamo, delle vicende che ci hanno portato alla situazione attuale, tanto il governo entro stasera si farà e c'è da discutere su come agirà e che cosa avverrà nel Paese. Comunque, io credo, ripeto, che scissioni non ce ne saranno, almeno per ora, perché conviene ai due partiti che vanno a formare il governo di fare questo governo fino alla fine della legislatura, sia perché c'è da eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, sia per altri motivi. Sono due partiti che hanno avuto due scacchi enormi, partiti uno dal 40% è arrivato a 18%, uno dal 34% è arrivato a 16%, quindi hanno tutto da rifare ex novo. Allora i problemi sono, a mio avviso, due. Per quanto riguarda l'opposizione, che opposizione farà Salvini? Se Salvini al governo è stato così intemperante, così sanguigno, come continuerà l'opposizione? Prepariamoci a un opposizione. Visto che ha già agitato l'idea della piazza, diciamo così. L'altra cosa è come agiranno insieme PD e Movimento 5 Stelle dal momento in cui il vero elemento di scissione oggi nella politica è essere socialdemocratici, cioè dalla parte, diciamo così, degli sfruttati, dei perdenti, del welfare, oppure neoliberisti. Quale di queste due fazioni vincerà? In questo momento è più socialdemocratico il Movimento 5 Stelle che non il PD. Renzi è riuscito a fare del PD un partito prevalentemente neoliberista. si sarà in grado di fare un accordo tra persone che non hanno così chiaro tutto questo e inoltre si potrà far funzionare il governo che è stato fatto da persone incompetenti a formare un governo. Perché fateci caso, nelle commissioni che in questi giorni stanno lavorando per fare il governo, tranne Di Maio che aveva partecipato alla Kermes precedente, nessuno di loro ha fatto mai parte di una commissione che doveva formare i governi. Quindi si tratta, diciamo, di primizie. Cioè lei non considera i capigruppo comunque... Lei non considera i capigruppo all'altezza? Non hanno mai... non avevano mai partecipato alla formazione di un governo, mai. alle discussioni delicatissime che portano alla formazione di un governo. Quindi siamo, diciamo, in mano delle persone che stanno facendo una sorta di apprendistato di come si fa un governo. E questo è molto, molto pericoloso per un Paese. Allora... La questione è come sarà l'opposizione, come sarà il governo. Questo ovviamente non possiamo ancora saperlo, possiamo però provare a formularle alcune ipotesi. Quindi intanto ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Dopodiché lei ha accennato a un partito democratico con questa componente renziana che ha in qualche modo evidentemente condizionato l'andamento delle cose. Anche lì si diceva Renzi è pronto per fare l'ascensione e invece forse questo nuovo governo lo ferma. Vedremo se è davvero così dopo la pubblicità. Aiutiamo a questo che ci sia questo esecutivo. Noi negli ultimi mesi abbiamo avuto difficoltà soprattutto con una compagine di governo per quanto riguarda l'autonomia con la compagine 5 Stelle dove in diversi casi sia nel campo della salute sia nel campo dei lavori pubblici avevamo grandi problemi. E l'SVP quindi avrà un atteggiamento, se vi è inchiesta la fiducia a un possibile governo in itinere, darà un suo, si asterà, non darà, voterà contro la fiducia ma al momento non è possibile dare la fiducia ma si asterà e ovviamente l'abbiamo detto anche al Signor Presidente che abbiamo la massima, lui è un garante per l'Italia ma è un garante anche per le minoranze linguistiche e poniamo tutte le nostre fiducia nella figura del Presidente della Repubblica. Noi in caso di fiducia ci asteremo ma sarà un'astensione benevola e poi in futuro decideremo di misura e misura come comportarci. Non abbiamo mai chiesto come si tirò lo Volkspartei poltrone noi non le chiediamo poltrone ministeriali ma se mai non escludiamo appoggi esterni di misura e misura a un governo in itinere ma non diamo la fiducia, ci asteremo. Grazie, ci sono domande? Allora, in attesa di sentire se ci sono domande avete capito anche voi si è concluso l'incontro del Presidente Mattarella con la rappresentanza delle minoranze linguistiche ha parlato per prima la senatrice Unterberger che ha riassunto la posizione anche per gli altri dicendo che le senatori delle minoranze linguistiche non voteranno contro al massimo e l'avete sentito in diretta quando toccava invece al rappresentante della Suttierola il Volkspartei si asterranno e sarà un'astensione benevola quindi evidentemente insomma con un occhio all'accordo che si sta creando la senatrice Unterberger ha anche fatto notare come non ci siano praticamente donne in questo nuovo governo pochissime stanno partecipando alle trattative e ha fatto notare che insomma sarebbe il caso che ci fosse anche una rappresentanza femminile almeno pari al numero delle donne presenti in proporzione nel nostro paese detto questo credo che possiamo sentire ancora qualche minuto della conferenza stampa che si sta svolgendo al Quirinale addirittura PD e Cinque Stelle hanno molto di più in comune che la Lega e Cinque Stelle e questo contratto di governo che loro hanno fatto nel senso io ti do questo e per questo tu mi dai quell'altra cosa tipo reddito di cittadinanza e la quota 100 ma anche la politica sulla migrazione questo è un contratto un po' atipico invece un contratto di coalizione dove si guarda quali temi si ha in comune e dove ci sono forse solo alcune precisazioni da fare questo è una cosa normale in Germania lo fanno sempre fanno sempre un contratto di coalizione perciò io non trovo niente di anomalo e anzi io dico che non si può andare a votare ogni volta che ci sono dei sondaggi che dicono un'altra cosa o elezioni regionali o comunali dove c'è un altro risultato perché allora chi dice che dopo un anno non ci sia un altro sondaggio dove andiamo di nuovo a votare? Questa è la risposta della senatrice dovremmo prendere come mediatrice esatto e sostiene insomma sull'onda del progetto tedesco della cosa coalizione che in realtà si può benissimo stare insieme anzi è più diciamo naturale l'accostamento fra PD e Movimento 5 Stelle rispetto a Lega e Movimento 5 Stelle e allora vediamolo questo PD questo PD neoliberista come diceva il nostro sociologo Domenico De Masi che quando ha forse un po' anche a sorpresa capovolto tutte quelle che erano le aspettative cioè l'idea di andare a votare Zingaretti che probabilmente si era già messo d'accordo o comunque aveva fatto un patto di non desistenza con Salvini per andare subito al voto ha invece accolto un po' il torto collo all'inizio diciamo la provocazione di Renzi dire no facciamo l'accordo poi invece lo abbiamo visto Renzi devo dire ha ripreso il pallino in mano poi vedremo come finirà ma è sicuramente per adesso il vincente in questa crisi perché era all'angolo tutti si e tutti dicevano lo fa perché deve andarsene lo fa perché deve andarsene si aspettavano un Renzi conferenziere sul modello di Blair e di Clinton l'errore di Salvini perché io torno ad essere convinto che staccare la spina senza avere un piano B l'8 agosto dopo aver governato diverso tempo anche buttando giù Bocconi Amari come ha fatto Salvini e l'allenanza con 5 Stelle sia stato un errore e lui ha detto ferma un attimo allora in politica tutto è possibile fedele alla elezione di un altro fiorentino il Machiavelli dice perché no con i 5 Stelle se ne erano dette di ogni colore prima ha messo questa palla al centro e ha messo automaticamente in difficoltà Salvini che infatti da lì ha detto ma riapro un po' la porta ai 5 Stelle di Maio nei 5 Stelle ha fatto uscire fuori Grillo che ha detto sì fermiamo i barbari e ha messo paradossalmente in difficoltà anche i zigaretti cioè dentro il PD ha ripreso una fish che fa bene o fa male a stare fuori dal partito quando Di Masi diceva sì scusate dal governo Di Masi diceva anche Di Maio Di Maio non dovrebbe stare nel governo perché si dovrebbe occupare no di questo movimento che sta diventando partito e Zingaretti secondo me fa bene a stare fuori è anche presidente della regione Lazio lui cioè se lui entra nel governo si apre un domino perché gli si apre il problema all'interno del partito si libera la presidenza della regione Lazio cioè entrano in balle ho troppe caselle poi per controllare un partito che tra virgolette è renzizzato meglio dedicarsi al partito come diceva Di Masi che fare due cose governo e partito ma voi ve la sentireste di dire che la scissione a questo punto è evitata o è semplicemente dilazionata nel tempo Caprana? No, non credo assolutamente che la scissione sia evitata e che anzi un prosieguo di legislatura potrebbe servire a Renzi per organizzarla meglio se ha intenzione di presentare una nuova forza politica nelle future elezioni però direi che secondo me sarebbe utile più che guardare tutti questi personalismi guardare il senso di questi personalismi qui purtroppo arriviamo ad una dimostrazione concreta di quanto il nostro paese ha delle difficoltà la crisi della forma partito che non è ancora stata risolta si vede in tutta la sua evidenza in questi giorni in cui c'è una trattativa per fare un governo dove i principali negoziatori cioè il segretario del PD Zingaretti il capo politico di 5 Stelle Di Maio si vede che non hanno entusiasmo per farla gli altri spingono ma non esistono o almeno non hanno la voce che avevano un tempo e io non dico che bisogna tornare al tempo passato dico che però dato di fatto gli organismi dirigenti collettivi questa perdita di senso dell'azione collettiva è un limite del nostro paese un paese che non a caso ha il crollo il punto storico più basso delle nascite non riesce a uscire da una situazione di stagnazione o ripresa arachitica insomma qui non c'è una discussione su dove vogliamo portare il paese ma non so se ci rendiamo conto che si sta discutendo su si può fare una coalizione di governo se mi dai la vicepresidenza del consiglio oppure no adesso io non voglio dire capisco capisco quello che la questione anche la vicenda peraltro ti interrompo solo un secondo per dirti che ti viene incontro in qualche modo una dichiarazione che è appena uscita di Orlando che comunque è stato ministro della giustizia importante esponente del partito democratico che dice non vedo perché il PD debba rinunciare a una figura che sia di raccordo e rappresentanza all'interno del governo e questo l'ha detto a proposito del fatto di avere o meno un vicepremier e lui ha detto ma però insomma non è tanto importante però insomma quindi si rigira sempre intorno alla questione come la stai ponendo in questo caso è per dire se ne può fare a meno e dato che lui è dato per uno dei possibili è una maniera per dire non sono io l'ostacolo no anche però diciamo al di là di questo perché poi appunto bisogna sempre decrittare no questo dobbiamo tener conto però qua se ci interessa che il nostro paese stia meglio che ognuno di noi in qualche modo ha una responsabilità su questo questo è un paese che non sta trovando degli scopi di azione comune da questo punto di vista la creazione di una coalizione vista per forza come una roba terribile compromesso inguacchio è possibile inguacchio e non inciucio perché inciucio è un'altra cosa è il chiacchierare ma è hai ragione finalmente no no perché questa è una violenza napoletana la filologia va rispettata finalmente l'inciucio è il ciuccio l'inguacchio è il ciuccio bravo finalmente qualcuno questa è una cosa da fastidio d'anni è puto però poi quando delle realtà false diventano così molto dette tutti ci credono poi non è così anche quello che diceva prima il professor De Masi che io ascolto come sociologo sul movimento 5 stelle del partito ma per la verità io ho delle opinioni un po' diverse la Lega era un movimento rappresentava un malessere negli anni fine anni 80 inizio anni 90 nel nord che ha tracimato quando con il crollo del muro di Berlino è stato possibile per ceti dell'Italia produttiva dire vabbè allora prendiamocela anche con i democraziani e i socialisti tanto non vengono i cosacchi a beberazzi nella fontana di San Pietro e quindi le inchieste della magistratura hanno divelto un sistema di equilibrio e di rapporti e un gruppo di anche diciamo in senso buono di pazzi ha avuto la leadership quello era un movimento di massa e 5 stelle è un'altra cosa è un riuscitissimo dal punto di vista della conquista di consenso per una prima fase prodotto di marketing che deriva dall'osservazione dei comportamenti elettorali degli italiani una grande disaffezione dalla politica anche una motivata disaffezione dalla politica sulla quale è stato poi confezionato dall'alto non dal basso un prodotto che è stato messo sul mercato e raccolto molto consenso il vero problema è che questa cosa non è ancora partito e non è movimento si chiama così io dico rispetto il nome però diciamo se dobbiamo usare la minuscola non è un movimento di massa è una galassia è un insieme di volontà diffuse ramificate non ancora strutturata ma a queste cose noi italiani dovremmo pensare di dare canali di espressione democratica che non siano dell'ultimo momento che non siano spettacolari che abbiano continuità e porci il problema del superamento della crisi del sistema partito che non ci giova intanto dobbiamo superare una crisi di governo noi dobbiamo andare in pubblicità e prima c'è anche il meteo quindi ci fermiamo a proposito di dichiarazioni lascio non lascio calenda Carlo Calenda sapete anche lui iscritto da poco al partito democratico però insomma è importante ha detto no ma se c'è l'accordo io il PD lo lascio intanto noi andiamo a vederci il meteo ben ritrovati nel meteo di coffee break sta cambiando il tempo sulle nostre regioni occidentali in particolare sulla Sardegna dove sono già giunte delle nubie dove nel pomeriggio registreremo un consistente peggioramento eccolo infatti nei simboli meteorologici abbiamo posizionato dei temporali sull'isola con particolare attenzione nella seconda parte del pomeriggio fin verso sera quando queste manifestazioni temporalesche potranno essere anche piuttosto consistenti rovesci e temporali li prevediamo anche ma in maniera meno intensa sull'arco alpino sulle zone prealpine anche sulle pianure del Triveneto sempre nel pomeriggio così come qualche rovescio qualche temporale ce l'aspettiamo sulla dorsale appenninica tra l'appennino tosco emiliano i rilievi dell'Umbria delle Marche del Lazio dell'Abruzzo e scendere anche verso la Campania sulle altre zone d'Italia il cielo sarà tra il poco nuvoloso e il localmente nuvoloso con ampie zone di sereno sulle regioni meridionali per domani ci aspettiamo ancora del maltempo sulla Sardegna in estensione verso la Sicilia e sulle entrambe le isole ci aspettiamo sia piogge che temporali soprattutto nella fase pomeridiana nel pomeriggio come al solito si accenderanno degli addensamenti piuttosto consistenti sulle zone alpine e prealpine dove la probabilità di qualche rovescio temporalesco sarà sempre abbastanza consistente temporali e rovesci sparsi anche sulle zone appenniniche per venerdì appena uno sguardo per dire che rimane una instabilità ma il tempo complessivamente farà segnare un graduale e progressivo miglioramento ci fermiamo qui l'appuntamento con il meteo è per domani mattina più o meno alla stessa ora abbiamo ribadito la necessità di un governo di svolta un governo di svolta nelle politiche economiche e sociali con una lotta alla precarietà e alle diseguaglianze sociali una lotta senza quartiera all'evasione fiscale e alle mafie una svolta nelle politiche sull'immigrazione crediamo altresì che sia necessaria una nuova stagione di investimento di difese e di rilancio del nostro servizio sanitario pubblico che necessita di più medici e di più infermieri inoltre un governo che affronti con coraggio determinazione capacità di innovazione il tema epocale della lotta ai cambiamenti climatici lanciando un grande piano per la riconversione ecologica della nostra economia e per una difesa dell'assetto idrogeologico del nostro territorio assai fragile ovviamente un governo di svolta deve avere come primo atto una legge di bilancio altrettanto di svolta che apra un confronto serrato con la commissione con l'unione europea per ottenere quegli spazi finanziari e quella flessibilità per poter mettere in atto un grande piano di investimenti con un'attenzione speciale al sud un meridione che da problema che da questione meridionale può diventare invece a nostro giudizio una grande opportunità di crescita e di sviluppo per l'intero paese deve essere anche a nostro giudizio un governo di svolta rispetto al tentativo di riportare indietro le lancette del tempo sul tema delle conquiste dei diritti delle donne sconfingendo campagne come quelle del decreto pillona in definitiva quindi abbiamo riconfermato al presidente la nostra disponibilità per un governo di svolta mentre non siamo disponibili ad un governo pur che sia solo per evitare il voto anticipato grazie e allora anche in questo caso vedete si susseguono il ritmo è abbastanza serrato quello delle consultazioni questa era la delegazione alla camera di liberi uguali perché non c'è la rappresentanza del senato quindi è stata sentita la delegazione della camera l'indicazione è abbastanza chiara quindi un coinvolgimento in questo governo che deve essere non più del cambiamento ma di svolta quindi abbiamo già capito che il nome è diverso mentre si costruisce questo governo io voglio andare ancora a Milano dal nostro ospite Sofo per capire invece che cosa sta succedendo all'interno della Lega ieri si è molto discusso e anche oggi del tweet che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto a favore di Conte benché abbia sbagliato il nome questo Giuseppi ha fatto molto ridere però insomma va bene se ne è discusso perché Trump diciamo così è il re dei sovranisti è il sovranista per eccellenza eppure appoggia e anzi plaude al governo Conte nel frattempo quindi la Lega deve fare comunque i conti con forse un'identità che le sta sfuggendo o comunque qualche cosa al proprio interno che non funziona più bene c'è già qualcuno che ha detto beh ridiscutiamo il ruolo di Salvini lei che cosa ne pensa? Allora innanzitutto riguardo al tweet al tweet di Trump credo che sia molto più più semplice di come adesso la si voglia analizzare nel senso che Trump ovviamente ha vissuto e conosciuto Conte in quanto capo di un governo che appunto aveva comunque una trazione sovranista che era quella della Lega e quindi ovviamente dal punto di vista degli Stati Uniti se si è trovata diciamo con un governo Conte con cui hanno avuto buoni rapporti fino ad oggi insomma Trump si auspica che di continuare ad avere questi rapporti il problema è un altro che il problema è che il Conte da domani in poi qualora dovesse restare Premier non sarebbe più il Conte che c'è stato fino a ieri perché lui che è stato il garante di un governo di un contratto di governo con la Lega va da un giorno all'altro a diventare il garante di un governo che sarà esattamente l'opposto anche nelle politiche che porteranno avanti quanto alla Lega Quindi mi scusi Scusi perché in realtà lei sa che il Partito Democratico non gli riconosce questo ruolo l'ha detto più di una volta che considera Conte diciamo in quota Movimento 5 Stelle non come figura terza lo ha detto chiaramente il Partito Democratico cambia totalmente il ruolo cambia totalmente il ruolo di Conte ma resta il fatto che qualora dovesse diventare Premier sarebbe il Premier del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico oltre che magari di alcune forze tipo quella di Liberi Uguali che nel Paese sono scomparse e che invece improvvisamente diventerebbero centrali per l'azione di governo italiano a testimonianza dello scollamento che creerebbe questo governo con il tessuto sociale questo è la democrazia parlamentare funziona così questa è la democrazia parlamentare ma nel 2011 abbiamo avuto la prova Abbiamo votato nel 2018 non cent'anni fa quindi assolutamente abbiamo votato infatti con un governo che adesso sarà era totalmente diverso da quello che ci sarà che ci sarà oggi allora che si stia creando uno scollamento tra tessuto popolare e salotti e il potere è evidente questa sarà l'ennesima certificazione come d'abitudine partito democratico di questo tipo di prassi se non che abbiamo già visto negli anni scorsi che cosa poi comporta nel medio lungo termine lo scollamento della classe dirigente politica e del governo rispetto alla popolazione dopo infatti tant'è vero che parla con uno che è d'accordo con quello che è stato detto prima sul fatto che effettivamente ci sia da fare un ragionamento strutturale sulla forma partito e anche sul sistema probabilmente elettorale e democratico che abbiamo in Italia perché gli ultimi anni hanno dimostrato che diciamo il concetto di democrazia si è sempre più affievolito e soprattutto si è sempre più affievolito il concetto di rappresentanza e rappresentatività del popolo italiano all'interno del Parlamento per quanto riguarda la Lega invece non sta succedendo assolutamente nulla perché i consensi diciamo comunque restano alti c'è semplicemente c'è semplicemente il tentativo di qualcuno che è totalmente marginalizzato all'interno della Lega vedasi vedasi Fava perché il riferimento credo che fosse fosse a lui che è come liberi o uguali in Italia insomma non ha più nessun tipo di rappresentatività all'interno del movimento e che cerca legittimamente da parte sua ovviamente un nuovo spazio politico in virtù di questa diciamo di questa situazione ma è un'iniziativa che è irrilevante politicamente va bene facciamo che facciamo che insomma diamo credito nel senso che fino a prova contraria vediamo se poi davvero invece ci sarà una scalata del partito che all'ultime votazioni per la segreteria e la Lega insomma ha perso Fava infatti assolutamente però lei sa che come abbiamo assistito appunto nel giro di un anno a proporzioni che si sono completamente ribaltate tutto può accadere vi segnalo che nel frattempo è iniziata la direzione del partito democratico con un po' di ritardo perché era prevista per le 10 del mattino invece è iniziata intorno alle 10 e mezzo Zingaretti entrando ha detto che lui è ottimista ha anche aggiunto che lui è sempre ottimista però insomma no non credo uno dica non trascurerei la voce delle formazioni minori in Parlamento primo perché quelli delle autonomie sono molto presenti in attività parlamentari ma anche perché dai discorsi che facevano entrambi pesano soprattutto per una maggioranza che non è che sarebbe robustissima quindi ha bisogno poi Zingaretti ha detto quando era stato a Quirinale che voleva una maggioranza il più ampio possibile quindi quelle forze vanno tenute d'occhio perché una voce in capitolo la possono avere ma ci indicano che al di là di quella porta l'ipotesi della coalizione PD 5 Stelle è diciamo esaminata è più avanti forse di quanto appare nel dibattito pubblico da come ne parlano loro perché è come se fossero stati tenuti a pronunciarsi su da che parte stai su un progetto che già prende corpo poi è chiaro la situazione è in movimento e rimangono tutte le cose che ci dicevamo prima del resto non è un mistero insomma che chiunque si stia occupando di questa vicenda ha delle liste di ministri più o meno no? sì noi ci siamo astenuti questa mattina il totto ministri è un esercizio quasi retorico viene più usato a fini di battaglia prima di chiudere un accordo perché poi chi entra ministro nel toto ne esce ne esce completamente posso dire una cosa su Salvini devi la domanda che ti facevi sulla Lega secondo me c'è da notare una cosa la crescita della Lega merito di Salvini e della sua linea è avvenuta con Salvini che era ministro dell'interno al governo e che di volta in volta quando alcuni provvedimenti del governo targati 5 stelle non gli piacevano faceva l'opposizione cioè stare al governo e fare all'opposizione ha giovato molto a Salvini sentivo prima De Masi diceva non so se richiamerà le piazze la tua osservazione giusta mi permetto proprio da cronista pignolina di dire che è vero Salvini ha preso una Lega che stava intorno all'8% 7-8% stava messa Maluccio e quindi era messa abbastanza male Salvini ha preso una Lega che stava al 3 e mezzo stava al 4% stava al 4% era messa Maluccio ma questo prima di governare è arrivata al 17% stando all'opposizione perché se no sembra che è arrivata al 17% stando all'opposizione ma stando al governo è arrivata al 34% quindi ha raddoppiato allora lì il punto qual è anche l'evocazione delle piazze che faceva De Masi il popolo del nord solo la piazza e la potesta il popolo del nord sta con Salvini secondo me non l'ama molto gli piace di più un ministro che fa dice guardate sull'immigrazione e che critica i suoi colleghi ministri che non fanno quindi alla lunga troppa opposizione potrebbe nuocere a Salvini secondo me per quello lui sta cercando anche alla bella e meglio di provare tutti i tentativi corridoio ai 5 stelle perché non c'è dubbio che dopo l'8 luglio dopo che ha staccato la spina si è un po' incagliato come si dice si è incagliato allora io vi devo salutare perché comincio a vedere già i colleghi dell'aria che tira pronti Domenico De Masi un flash solo per lei proprio per salutarla noi abbiamo fatto vedere mentre lei parlava il post scritto proprio ieri sera da Luigi Di Maio intorno alle 10.40 che annunciava la volontà di andare sulla piattaforma rosso post sul blog delle stelle ebbene questo post sta ha raggiunto già non so quanti quanti like soprattutto una valanga di commenti come si poteva immaginare non proprio diciamo concilianti non proprio c'è un ribollire della base come si dice in questi casi ma io credo che si fanno vivi soprattutto quelli che sono contro quelli che sono a favore non intervengono sui social o intervengono molto meno volevo però chiudere con una osservazione è vero che liberi uguali sono pochi insomma saranno un milione e due circa di voti però sono un indicatore molto forte cioè questa svolta del PD che finalmente ha capito esserci in 5 Stelle una possibilità di incontro serio sta richiamando sta richiamando i fuoriusciti dal PD e molti ne verranno forse dallo stesso Movimento 5 Stelle ma sicuramente è un segnale il fatto che liberi e uguali abbiano deciso di votare a favore di questo governo quindi la svolta neoliberista invece a questo punto prenderebbe tutta un'altra piega Francesco Magnani buongiorno buongiorno a te dopodiché ci si è un'altra partita che si sta giocando in questo momento parallela alle consultazioni istituzionali al Quirinale che è quella politica la riunione congiunta PD Movimento 5 Stelle che si è appena conclusa a Montecitorio e poi la direzione del PD noi abbiamo due inviati sul campo uno che appunto seguirà la liturgia Quirinalizia l'altro invece che starà dietro al laboratorio per costruire questo governo giallorosso che sembra sempre più maturo abbiamo ospiti d'eccezione per parlarne quest'oggi Laura Tecce Maria Teresa Meli Giorgio Moulet Ferruccio Sansa aspettiamo un esponente del Partito Democratico ammesso e non concesso che la direzione finisca in fretta poi arriverà Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera Claudia Fusani alle 13 una analisi della crisi più pazza del mondo e dei suoi esiti con un archistar famoso in tutto il mondo Massimiliano Fucsas che meraviglia Flavia lasciate la parola e tra poco ci vediamo in diretta perfetto allora la linea a te intanto mi hanno dato un'ultima agenzia con Di Maio che dice si pensi alle soluzioni non a colpire me quindi evidentemente appunto altro che la maretta di cui parlavamo bene signori è stato un piacere conversare con voi questa mattina e vi do quindi e vi ringrazio voi che ci avete seguito vi do appuntamento domani sempre intorno alle 9.40 buona giornata grazie a tutti